Con belle e fiche restaurante, chambar, spaghetti e bocchino, e mentre suona la via rosa, alla teleplay se ne va, è già mezz'ora e sono qua, seduto solo al restaurante, arriva il conto, non tengo un soldo, mi prendo tempo e sto a pensare a chissà dove, come sarà la polizia qui a Notte e Dance, e mi vedo gli angeli del bar, invidiosi di me, che non alcun lo che già fai giù a Notte e Dance. Mi guardo intorno e vedo che il signore guarda proprio me, un vero grande di Duong, lui paga il conto a Juan Giordano, ho grazie tante del favore, in qualche modo renderò, lui dice, no preoccupazione, abbiamo già la soluzione. Sto qui, seduto, in questa macchina, e poi nel blusso di un grande hotel, un letto singolo, ho capito, i debiti siano debiti, non so, ah, lei vorrebbe fare, diciamo, da protagonista, ho capito, d'altra parte non c'ho soldi, ma sarebbe la prima volta, sa, anzi proprio prima volta no, perché in parrocchia dai ragazzi è bellissimo, e l'ho rimosso con l'esperienza, non capito, va bene, facciamola svelta, facciamola finita, facciamola presto. E' bello, è frigesco, l'ho rimosso, ha detto che è la prima volta, magari una musica più, un po' dolce invitante, guarda, un funghetto lì, uno là, vieni anche tu, guarda, Don Mario, Don Mario, mi prendo io, mi prendo io, Don Mario, mi prendo io, ti prendo io, mi prendo io, si direi, che gran culo cheiansc'è f墜ca, roto, culo, a roto, danz grazie grazie